Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Lupo, oggi cosa facciamo? Oggi è praticamente un funerale, il funerale del videogioco, il funerale delle simulazioni, il funerale delle aspettative. Veramente molto amareggiato perché vi avevo permesso di portarvi tanti contenuti perché c'erano tanti giochi in uscita. Partiamo subito con il primo, Aerosoft, facciamoci il segno della croce. Il gioco in questione è appunto Heavy Cargo Truck Simulator, un gioco basato sui trasporti eccezionali, quindi si poteva avvicinare già a quello che è Eurotrack Simulator su PC, ovviamente in proporzioni molto più modeste perché su console, basato appunto su trasporti eccezionali, quindi silos, vagoni, monumenti, container, qualcosa veramente di epico, come hai visto su console e anche questo gioco doveva arrivare entro l'autunno 2022. Purtroppo anche questo è sparito dai radar, ci dispiace, Aerosoft ha dato una svegliata perché noi stiamo aspettando a bordo dei nostri camion e a furia di tenerli accesi, sta finendo il gasolio. Per poi passare ad Alaskan Truck Simulator, un gioco che trattava di simulazione appunto tra i ghiacci dell'Alaska, un gioco simulativo ai limiti del gioco di ruolo perché c'erano dei perk da posizionare sul personaggio, sulle sue capacità per avvantaggiarlo sulle condizioni e sugli eventi che gli sarebbero accaduti. Esempio, prima di accendere il camion bisognava appunto riscaldare il motore per poter sbrinare i vetri, insomma c'erano delle procedure di accensione del veicolo per accenderlo e farlo durare al migliore dei modi. Seconda cosa, si potevano creare dei cibi con animali che si avevano cacciato da portarci, cibi poi da cucinare, da portarci in viaggio per poter nutrire il nostro personaggio perché aveva bisogno di bere, mangiare e dormire, quindi bisognava anche tener conto della salute del personaggio oltre che della manutenzione del camion, quindi un gioco davvero molto promettente, una mappa bella ampia, c'è qualcosa su YouTube, qualche beta che è stata rilasciata, il gioco doveva uscire per PS4 e PS5 entro quest'anno, è stato annunciato e poi è sparito dai radar completamente, quindi probabilmente qualche orso in Alaska se l'è mangiato insieme ai programmatori e anche Alaska, via! E poi come non poter parlare del gioco più atteso per me, che è stato inizialmente una delusione, che è Track Driver, versione PS4 e quest'anno, settembre 2021, sarebbe dovuto uscire la versione Next Gen, quindi patchata, 4K a 60fps, di Track Driver, con tutte le espansioni, tutti i veicoli, una fisica migliorata, una grafica migliorata, tante promesse e non abbiamo visto niente. Il gioco è stato rinviato a poche settimane dall'uscita a febbraio 2023. Questo è il secondo rinvio che riceve questo gioco, mi sarebbe tanto piaciuto poterlo portare, perché è l'unico gioco di camion, tralasciando SnowRunner e MudRunner, dove si può usare il cambio ad H per cambiare le marce, quindi aggiungevano qualcosa in più, qualcosa che manca sicuramente su On The Road. Il gioco sicuramente rimane un simcade, non vuole avvicinarsi a simulazioni di nessun tipo, anche perché non ha licenze ufficiali, però appunto questo gli permette di poter essere più vario, quindi si potevano modificare, si possono sulla versione PS4 attuale, modificare il camion, estetica, interni, esterni, colori, motore, tutto quello che volete si poteva fare. La versione PS5 era piena di promesse, ma anche queste mancate. Poi per ultimo, ma non per ultimo, notizia dell'ultime ore, Project Cars. Project Cars, dopo essere stato acquisito come marchio da EA, è stato abbandonato il progetto del Project Cars 4, dove gli sviluppatori stessi twittarono che sarebbe stato il gioco di simulazione definitivo, avrebbe sbaragliato la concorrenza, avrebbe fatto questo, avrebbe fatto quello, luci, suoni, colori. Alla fine il progetto è stato abbandonato completamente per favorire i titoli che hanno già di punta, tra cui i vari Need for Speed, lo sottintezzo io perché nell'articolo su DriveItalia.net, si parla appunto che hanno voluto continuare a lavorare sui progetti Open World. Open World li ho collegati a Need perché le ha i giochi di macchine che ha sul mercato, a parte Grid che è uscito da poco ed è stato un flop totale, quindi Need for Speed. Quindi continueranno su quella scia degli Open World, cercheranno di ritagliarsi una nicchia sempre più forte. Speriamo che con Need for Speed Unbound questo possa accadere, anche se è un Need. Tornando a Project Cars ci dispiace davvero tanto, il primo capitolo è uscito nel 2015, era l'antagonista di Assetto Corsa, voglio ricordare, per alcuni ho Simcade, ma probabilmente per quella gente non è stata capace di approfondire il gioco, perché il gioco si parte con delle impostazioni Simcade, ma se si va a lavorare sul Force Feedback e alcuni parametri che ci sono nel gioco, il gioco può essere una bella sfida, un bel titolo simulativo. Secondo me è l'antagonista del primo Assetto Corsa, ovviamente con i suoi pregi e i suoi difetti, ma comunque c'era un rivale con cui confrontarsi. Ci dispiace che Project Cars, il progetto del quarto capitolo, sia stato abbandonato, ci dispiace davvero tanto, noi appassionati di simulazione. Il video ragazzi per oggi finisce qui, queste sono le news lapidarie della settimana che purtroppo non avrei mai voluto dare, io vi ringrazio per avermi seguito, vi ringrazio per il continuo supporto, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, lupo del tubo. Per poi passare ad Alaskia, ad Alaskan, il gioco in questione, il gioco in questione, e lo booga booga booga!